In esposizione sino al 2 settembre alle Gallerie d'Italia Palazzo Zevalos Stigliano, sede museale di Intesa San Paolo a Napoli, la celebre opera di Leonardo da Vinci, La Scapiliata. Per arrivare a Palazzo Zevalos Stigliano, da Piazza Garibaldi, metropolitana linea 1, fermata a Toledo in municipio, funicolare linea centrale, fermato a Agusteo, bus, linea E6 ed R2, fermata a Teatro San Carlo. L'11 agosto concerto all'alba a Ravello, appuntamento ore 4.45 a Villa Rufolo in Piazza Duomo, orchestra filarmonica salernitana Giuseppe Verdi. Per aggiungere Ravello statale 163, dopo Amalfi direzione Ravello, oppure A3 uscita Angri, poi Valico di Chiunzi, in bus, linea e sita. 25esima edizione del Palio della Botte ad Avellino, lungo corso Umberto I, sbandidatori e bottaioli, sette contrade si contendono la botte d'oro, dopo il corteo storico Vince che riesce a trascinarla sin davanti al Sagrato della Chiesa, aiutati solo da una mazza di legno. Per arrivare ad Avellino in auto a 16 Napoli Bari uscita Avellino, oppure a 3 Napoli Salerno uscita Avellino, in Pullman linea Air. Un percorso enogastronomico fatto di musica e folklore, la 17esima edizione di Mangiamo con i contadini, appuntamento 13 e 14 agosto ad Auletta in provincia di Salerno, usanze, costumi, tradizioni e gastronomia della civiltà contadina. Come arrivare ad Auletta, a 2 del Mediterraneo uscita Petina o Polla, in treno da Salerno a Siciniano Scalo, poi Pullman Sita per Auletta. A Stio, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, dal 17 al 23 agosto, l'evento gastronomico Cici Maretati, la squisita zuppa di legumi nata in tempi in cui i contadini, in cui spettavano scarse quote del prodotto agricolo, soprattutto in tempi di magra, sposavano nel Tiano le rimanenze di tutti i legumi rimasti in casa. Per arrivare a Stio, a 2 del Mediterraneo uscire a Battipaglia e proseguire direzione Pestum, poi strada provinciale 13 e passare per Monteforte-Cilento sino a Stio. In treno da Salerno, treno a stazione ferroviaria di Vallo della Lucania, Castelnuovo-Cilento. Segnalateci i vostri appuntamenti a eventichiocciolamuoversi.regione.campania.it